Legalità, educazione civica, cultura e sport. Il Comune di Napoli incentiva le migliori energie creative della città agevolando e finanziando progetti educativi dedicati ai giovani, cittadini di età compresa fra i 18 e i 35 anni che saranno coinvolti in percorsi di avvicinamento alla lettura, alla musica, al teatro e alla pittura, ma anche alla ceramica, alla moda e al fumetto. Con un budget di 200.000 euro vogliamo innescare delle possibilità concrete di attivazione dal basso attraverso le arti e attraverso un'attività laboratoriale che si potrà realizzare in tantissimi luoghi comunali dai centri giovanili alle biblioteche e che però sarà un'esperienza non fine a se stessa. Abbiamo scelto come criterio una distribuzione egualitaria su tutti i dieci territori delle dieci municipalità, proprio perché le azioni per i giovani e con i giovani della città di Napoli non devono avere barriere di quartiere. A presentare i progetti saranno associazioni, gruppi informali e anche singoli cittadini nati o residenti a Napoli con proposte originali di alto valore formativo che stimolino la creatività dei partecipanti. I progetti saranno vagliati da una commissione composta da esperti e da tecnici. Un requisito importante sarà la capacità di coinvolgere giovani in condizioni di disagio o provenienti da famiglie disgregate. Stimolare l'associazionismo perché i giovani devono imparare a stare insieme, a farlo sempre di più perché non dobbiamo considerare che comunque si tratta di generazioni che per troppo tempo, vuoi per la poca vivibilità, per i pochi luoghi di incontro, per la web mania anche per certi aspetti sono cresciuti con l'idea un po' dell'isolamento. Per partecipare alla selezione è necessaria l'iscrizione al registro cittadino delle associazioni giovanili tenuto dal comune. I percorsi formativi si concluderanno entro la fine di giugno. I risultati saranno presentati al clan degli artisti, un festival cittadino multidisciplinare che si svolgerà in tre giornate a Napoli. Il bando per la selezione in scadenza il prossimo 15 marzo è disponibile su www.comune.napoli.it Molto bello che nella città che ha il più alto numero di giovani d'Europa ci sia un assessore giovane così giovane alla creatività. Noi siamo convinti che la creatività è un motore anche per l'economia e per il lavoro. Sono progetti concreti, finanziamenti, la possibilità anche di ottenere opportunità di guadagno per i più giovani è uno stimolo alla partecipazione. Un bel segnale da parte di una città che punta sui giovani.